Tappa a Vasto per il Vice Ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili Teresa Bellanova. Al centro della sua visita tematiche rilevanti come l'istituzione della Zessi in Abruzzo, la variante alla Statale 16 e il potenziamento del Porto di Vasto con la realizzazione dell'ultimo miglio di collegamento con l'omonima stazione e la possibilità di inserire lo scalo vastese tra i bacini nazionali e non più regionali. Queste le sue parole a margine dell'incontro odierno. Stiamo lavorando insieme a tutte le altre Zess perché bisogna avviare i progetti, ci sono le risorse, 62 milioni destinati esclusivamente alla Zess dell'Abruzzo, oltre ad altre risorse che intervengono su progetti che devono essere realizzati e realizzati rapidamente. Due tematiche importanti, il Porto di Vasto e soprattutto la variante alla Statale 16. Per quanto riguarda la variante, io ho ascoltato gli amministratori, so che c'è una situazione di grande criticità e su questo l'impegno che assumo è quello di convocare un tavolo con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, l'ANAS, gli enti locali, perché dobbiamo affrontare questa situazione e cercare di avere una soluzione condivisa perché credo che questo è il modo migliore per onorare l'esigenza del territorio che comunque è quello di avere delle infrastrutture che devono rispondere all'obiettivo che noi abbiamo con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, facilitare la mobilità delle persone, la mobilità delle merci, mantenendo anche sostenibilità ambientale. Con il PNRR ci saranno dei fondi per il Porto di Vasto? Ci sono dei fondi, alcuni fondi sono stati già destinati e su questo io credo che se dovesse arrivare la richiesta da parte della Regione di inserire il Porto di Vasto, che è un porto regionale, di inserirlo dentro l'autorità di sistema portuale, troverà in me una sostenitrice perché credo che fare queste operazioni significa anche rafforzare, significa fare sistema anche sull'utilizzo delle risorse, significa dare ai porti, anche ai porti regionali, delle funzioni che corrispondono a quella che è un'aspettativa importante da parte della comunità portuale ma anche da parte di tutti i cittadini perché attraverso questo noi dobbiamo sempre di più rafforzare anche il cosiddetto ultimo miglio che ci mette in condizione di avere quel trasporto intermodale che corrisponde all'esigenza della sostenibilità ambientale ma anche della sostenibilità economica.